E' terminato il big match della serata tra Sunderland e Manchester City. Manchester City ha battuto la capolista. Siamo qui con Lorenzo Volizzi e Casillo Achille. Il nostro migliore in campo sia proprio tu. Questa partita era dura. E' stata molto dura, molto impegnativa. Lo sapevamo perché sapevamo la forza della nostra squadra. Secondo i giudici sono stato il migliore. Ma io voglio condividere questo premio con il nostro portiere perché secondo me è un portiere che ha un rendimento costante molto molto alto. E' anche grazie a lui in merito di questa vittoria. Da sottolineare la parata all'ultimo, il tiro libero su Casillo e Ferdinando. Una vera prodezza che ha messo in sicuro il risultato. Altra ottima prestazione dei tuoi e soprattutto di tua parte, di tua bravura. Io vengo e faccio parte di questo sport. E' un po' di grande stagione. Sì, noi ci conosciamo. Loro vanno tranquilli quando il calcio mi va lontano. Io vado tranquillo quando il calcio mi va lontano. Quindi ci conosciamo bene e facciamo bene i calcio. Grazie.